Lo scopo di Italia Lab è sostanzialmente quello di offrire un supporto alle piccole e medie imprese italiane nello sviluppo della propria presenza e del proprio marchio sui mercati esteri. L'Italia Lab è un progetto che si sviluppa sulla base di due ipotesi di lavoro. Da un lato ci sono le aziende che hanno aderito al progetto quali sponsor o promotori del progetto stesso e ci sono poi delle altre aziende che stanno aderendo o aderiranno in un'ottica di partner di progetto piuttosto che di società partecipate. Questa operazione noi la stiamo facendo con una prospettiva sia di medio e lungo periodo e di breve periodo cioè quello di provare anche a dare alle singole produzioni attuali una prospettiva diversa nonostante la presenza all'interno di Italia Lab di un mondo che è fatto di imprese che hanno anche e soprattutto al proprio fianco una struttura produttiva quindi la capacità in qualche modo di realizzare determinati prodotti e di far leva anche sulle diverse filosofie che queste aziende hanno. La Galassia che è un'industria ha trovato lo spazio per collaborare con la Moab che è forse più un artigiano e dal connubio di queste due realtà è nato un prodotto che ha una dimensione industriale e un arricchimento di tipo artigianale. Grazie.